Allora, buongiorno, benvenuti in questa lezione di programmazione d'oggetti in cui parleremo dei membri statici e del modificatore static. Cosa servono questi diversi modificatori? Beh, iniziamo a parlare di quello che è il modificatore final. Final sostanzialmente permette di andare a dichiarare un attributo come un qualcosa che non può essere modificato. Quindi quando io dichiaro un attributo final sostanzialmente lo devo inizializzare e quel valore a cui ho inizializzato non può cambiare successivamente. L'inizializzazione può avvenire in momenti diversi, quindi può avvenire direttamente in line come in questo caso, oppure può avvenire successivamente all'interno del costruttore. In ogni caso, alla fine dell'esecuzione del costruttore, gli attributi final devono comunque essere inizializzati. In generale, una volta che ho dichiarato un attributo final, questo non può più cambiare. Io posso utilizzare il modificatore final non soltanto per gli attributi, ma anche, ad esempio, per i parametri di una funzione o per le variabili locali. Il significato sostanzialmente è lo stesso. I parametri final non possono essere modificati, mentre invece normalmente i parametri sono sostanzialmente equiparati a variabili locali, inizializzate dal chiamante. Le variabili locali final, allo stesso modo, devono essere inizializzate, e anche non necessariamente immediatamente alla loro dichiarazione, ma una volta inizializzate, non possono più essere cambiate. Tenete presente che il modificatore final non è transitivo, ovvero la caratteristica di essere immutabile si applica alla variabile o al riferimento, ma non all'oggetto puntato. Vediamo qui un esempio in cui troviamo una classe che ha due attributi pubblici e un riferimento P a un oggetto di questa classe, dichiarato final. Ovviamente noi non possiamo andare a associare a P un nuovo valore. Ora, essendo dichiarato final, il riferimento P non può essere modificato, quindi P uguale a new person è un qualcosa che non è permesso, sostanzialmente viene segnalato un errore di compilazione. Mentre invece è possibile andare a dire P punto first uguale a John, cioè andare a modificare l'attributo first dell'oggetto P che è puntato. Quindi, mentre il riferimento in sé è limitato, questo non si applica all'oggetto puntato dal riferimento final. A cosa servono gli attributi final? Lo vediamo, oltre a essere dichiarati non modificabili, possono essere convitati con un altro modificatore che è il modificatore aesthetic. Quando vado ad applicare il modificatore aesthetic a un attributo, questo mi segnala l'attributo come un attributo molto particolare che non è specifico per i diversi oggetti della classe, ma è comune a tutte le istanze della classe. Sostanzialmente questo significa che viene memorizzata una sola copia di quell'attributo e questa copia è condivisa da tutti gli oggetti della classe. A volte si chiama questo attributo un attributo di classe inteso come termine opposto a attributo di istanza. Quindi gli attributi di istanza sono specifici, propriati a degli oggetti, mentre gli attributi di classe sono condivisi da tutti, quindi possono essere visti e modificati da tutti gli oggetti. Sostanzialmente gli attributi statici esistono o iniziano ad avere un'area di memoria loro allocata dal momento in cui la classe è caricata e questo avviene prima che qualunque oggetto venga creato. Normalmente cosa succede? Che qualunque modifica a un attributo statico viene automaticamente vista da tutti gli oggetti perché sostanzialmente tutti fanno accesso alla stessa area di memoria. La parola chiave che utilizziamo è per l'appunto questa, static. A cosa servono gli attributi statici? Beh, sostanzialmente a mantenere un valore condiviso che può servire ad esempio a fare un conteggio di istanze di una certa classe, ad avere un'area comune in cui andare a memorizzare le copie di istanze, quindi potrei avere un'area in cui memorizzo tutti i riferimenti agli oggetti che ho creato, oppure posso avere un singolo valore che è una costante. Qui vediamo un esempio molto semplice in cui nella classe car ho dichiarato un attributo statico di tipo intero che è countBuildCars, che viene inizializzato a zero. Quindi questa variabile viene creata nel momento in cui la classe viene caricata dalla virtual machine e poi in un momento successivo, quando andrò a creare oggetti di tipo car, tramite questo costruttore, ci sarà un incremento di questa variabile. Questo vuol dire che ogni volta che creo un oggetto, questa variabile verrà incrementata di 1 ogni volta e tutti gli oggetti vedranno questo valore crescere. L'ultimo motivo che vi menzionavo, ovvero usare delle costanti, permette di andare a utilizzare in maniera combinata la parola chiave final e la parola chiave static per andare a dichiarare delle costanti. Allora, in questo esempio vediamo la costante Pi, e vi ricordo che per convenzione le costanti sono scritte con lettere tutte maiuscole, che è dichiarata come final e static. Perché vengono dichiarate in questo modo le costanti? Beh, perché sostanzialmente devono essere costanti, quindi non modificabili, da qui l'utilizzo del modificatore final. Static sostanzialmente fa in modo che esista un'unica copia di quella variabile. Se io non mettesse static davanti a un attributo dichiarato final, ogni classe avrebbe la propria copia di questa costante, che sarebbe ovviamente un grosso spreco di memoria. Se io cerco in un qualunque momento successivo di andare a modificare il valore di una costante, ovviamente ho un errore, e soprattutto devo andare a ricordarmi di inizializzare queste variabili. E normalmente le devo inizializzare direttamente in linea, esattamente come abbiamo fatto qui per la variabile Pi. Oltre agli attributi statici, in Java è possibile andare a dichiarare dei metodi che siano statici. Qual è la caratteristica di questi metodi? È che sostanzialmente non sono legati ad alcun oggetto. Mentre un metodo normalmente deve essere invocato su un particolare oggetto, e quindi può operare sugli attributi di quell'oggetto, i metodi statici sono slegati da qualunque oggetto, e quindi possono essere chiamati senza fare riferimento a un particolare oggetto, quindi senza un riferimento, e ovviamente non hanno la possibilità di accedere agli attributi di istanza. Perché? Perché ovviamente, non essendo chiamati su un oggetto, non si trovano all'interno di un oggetto, e quindi non hanno un valore dis tramite cui accedere agli attributi di istanza. Mentre invece possono normalmente andare a fare riferimento agli attributi statici, quindi quelli di classe. Un esempio di metodo statico, che abbiamo già visto molte volte, è il metodo main, che è dichiarato come public static. Questo perché? Perché inizialmente, all'avvio di un'applicazione Java, la Java Virtual Machine deve poter chiamare questo metodo senza avere alcun oggetto a disposizione, e quindi ovviamente deve essere dichiarato static. Un altro uso del modificatore static per i metodi è quello che vediamo nell'esempio invece che sta qui sotto, dove abbiamo quella che è sostanzialmente una funzione dichiarata come static. Perché è dichiarata in questo modo? Perché sostanzialmente il valore di ritorno dipende soltanto dai parametri e assolutamente non dipende da potenziali attributi di un oggetto. Quindi quando abbiamo delle funzioni pure, che hanno un input che dipende semplicemente dai parametri, scusate, un output che dipende semplicemente dai parametri di input, di solito è buona norma dichiararle come metodi statici. L'altro vantaggio è che, oltre a essere chiaro come funziona, posso chiamare questi metodi utilizzando esclusivamente il nome della classe, senza dover creare prima un oggetto. Se non fosse dichiarato come static, dovrei avere un oggetto di quel tipo, utilizzare il riferimento e chiamarlo. Per cui, per accedere a un attributo statico, a un metodo statico, sostanzialmente quello che faccio è utilizzare, invece di un riferimento, il nome della classe, per cui car.countBuildCars sostanzialmente fa riferimento all'attributo statico che ha questo nome dentro la classe car. utility.inverse invece fa riferimento al metodo statico dichiarato dentro la classe utility. Qui in questo caso gli passa un parametro e poi otterrà un valore come risultato. In generale, può capitare di avere una classe che ha tanti metodi statici o membri statici, ad esempio delle costanti, oppure tante funzioni. In questo caso, è possibile importare tutti quegli elementi, quindi tutti, ad esempio, i metodi statici, e utilizzarli direttamente senza dover mettere davanti il nome della classe utilizzando questa notazione, facendo un import static, il nome del package, la classe e punto asterisco. A questo punto, tutti i metodi e gli attributi statici che si trovano dentro questa classe sono utilizzabili senza dover specificare il nome della classe o altro e quindi sostanzialmente li posso utilizzare come fossero delle funzioni. Un esempio di metodi e attributi statici già definiti nelle classi di default del sistema sono quelle che si trovano, ad esempio, dentro la classe system. Dentro la classe system abbiamo, ad esempio, un metodo che si chiama current time min-list che ci restituisce il tempo corrente di sistema espresso in millisecondi. Può essere usato, ad esempio, per andare a fare delle operazioni di conteggio del tempo trascorso tra un evento e un altro. Esiste anche un altro metodo che si chiama exit, per cui quando io faccio system.exit posso sostanzialmente terminare l'esecuzione della virtual machine. In generale, questo è un modo non raccomandato per terminare l'esecuzione di una virtual machine perché non viene chiamato nessun metodo, sostanzialmente l'esecuzione termina immediatamente, quindi non viene rilasciata a memoria, non viene fatto nulla. Un altro esempio, questa volta di un attributo statico, è l'oggetto out che si trova sempre dentro system. Abbiamo visto nei nostri esempi, quando dobbiamo andare a stampare, che facciamo sempre riferimento a system.out. Ecco, out è un oggetto di classe printstream dichiarato come static e final all'interno della classe system che noi possiamo utilizzare per andare a stampare sullo standard output. Esiste ancora un uso del modificatore estetica all'interno delle classi che è quello di poter introdurre quello che si chiama un blocco di inizializzazione statica, per cui io all'interno di una classe posso andare a definire static, aperta graffa, chiusa graffa, e in questo blocco andare a definire una serie di istruzioni che verranno eseguite in fase di inizializzazione. Cosa vuol dire? Che non appena la Java Virtual Machine è caricata una classe, esegue questo codice per fare tutta una serie di inizializzazioni. Ad esempio, se io ho una variabile che è dichiarata come final static, quindi sostanzialmente diventerà una costante, posso fare un'operazione complicata per andare a calcolare il suo valore, invece di scriverlo direttamente in linea, oppure posso fare una serie di operazioni eventualmente molto più complicate di inizializzazione e queste vengono eseguite prima di creare alcun oggetto e immediatamente dopo che la classe è stata caricata in memoria. Vediamo un altro esempio di uso di questo modificatore static per andare a creare quello che è, ad esempio, un sistema che permette di gestire dei nomi globali all'interno di un programma. Quale può essere l'utilità di questa classe? Beh, immaginate di avere un programma di grandissime dimensioni in cui io voglio poter accedere a dei valori specifici, a dei settaggi, e le diverse parti del programma sono sviluppate in maniera indipendente e quindi non posso sostanzialmente andare a passare delle variabili perché sono molto distanti e è difficile mettersi d'accordo. Per cui è possibile avere una classe unica che ha un unico attributo pubblico statico che è la radice di questo albero di nomi in cui io posso andare a ricercare i miei settaggi, le mie costanti comuni a tutto il mio programma. Come faccio a creare questa classe? Beh, sostanzialmente vado a dichiarare directory come un riferimento root, dichiarato public fine aesthetic, quindi una volta inizializzato non può più essere toccato, quindi il riferimento è sempre allo stesso oggetto, e poi posso definire un blocco di inizializzazione che semplicemente crea un nuovo oggetto di tipo directory. Cosa succede se questo unico oggetto a radice a cui faranno poi riferimento tutte le parti del mio programma non è sempre utilizzato, quindi magari serve solo in alcuni frangenti, oppure se la sua creazione è molto costosa perché magari deve andare ad allocare memoria o caricare dati da un file system piuttosto che dalla rete. Ecco, in questo caso io posso andare a modificare questa struttura in modo che root non venga creato in fase di inizializzazione, quindi prima che parte al mio sistema, magari ritardando l'avvio del sistema stesso, ma invece venga creato quando è necessario, ovvero al primo tentativo di accedere. Quindi quello che posso fare è di andare a modificare la visibilità di questo oggetto root mettendolo come privato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nessuno potrà più accedere direttamente a questo oggetto root. E vado a definire un metodo public static che si chiama get instance che verrà chiamato in ogni parte del programma tutte le volte che devo accedere alla radice del mio albero di nomi. a questo punto se quando viene chiamato get instance normalmente la prima volta root è nullo l'oggetto root viene creato quindi viene creato su richiesta non appena necessario e restituisce l'oggetto root. Le volte successive root sarà già stato inizializzato e quindi non avrà più bisogno di essere creato e semplicemente verrà sempre restituito la stessa copia dell'oggetto. Il problema che abbiamo visto ovvero la necessità di avere un unico oggetto istanza di una classe che debba essere creato esattamente una volta e che questo oggetto debba essere disponibile a tutti e che la sua creazione debba essere fatta su richiesta quindi non inizialmente è un problema abbastanza comune ed è e viene codificato in quello che si chiama un pattern i pattern sostanzialmente permettono di andare a codificare delle soluzioni a problemi tipici e ricorrenti che sono ben noti il pattern in particolare si chiama singleton il contesto in cui mi trovo è di avere una classe che rappresenta un concetto che richiede un'unica istanza il problema è che io voglio garantire che tutti gli utenti di questa classe usino nel modo corretto questa classe quindi andando sostanzialmente a utilizzare sempre lo stesso unico oggetto come faccio? la soluzione è quella che abbiamo visto prima ovvero vado a dichiarare una classe che viene chiamata singleton quindi il nome specifico cambierà ma il nome generale di questa classe è singleton che ha un attributo privato che è l'istanza unica condivisa e un metodo getInstance che mi permette di andare a recuperare quell'istanza e quando necessario mi permette di andare a crearla ovvero sostanzialmente a quella che è la prima inizializzazione quindi in questo modo io poi garantisco che tutti gli utenti di questa classe vedano esattamente la stessa istanza e che l'istanza viene creata una volta sola non appena è necessario crearla il metodo getInstance è un esempio particolare di quello che di solito viene chiamato un factory method ovvero un metodo che è utilizzato per andare a creare una nuova istanza di un oggetto quindi sostanzialmente è un metodo che nasconde l'uso diretto dell'operatore new molto spesso si tratta di un metodo statico e può fare diverse operazioni come abbiamo visto prima può andare a restituire una singola istanza e crearla se non è ancora presente potrebbe andare a restituire un oggetto preso da un pool di oggetti preallocati immaginate di avere degli oggetti che sono abbastanza standard che so i colori piuttosto che i nomi delle città se esiste già un oggetto che rappresenta una città invece di crearlo vado a restituire quello che è già stato creato prima in modo da evitare duplicati oppure posso andare a creare degli oggetti intermedi per fare operazioni di creazione abbastanza articolate in quest'ottica normalmente il fattori method viene utilizzato per andare ad avviare quelle che sono delle interfacce cosiddette fluente ovvero sono una serie di metodi che costituiscono un API una serie di chiamate che permettono di andare a migliorare la leggibilità del codice nell'andare a costruire degli oggetti che sono potenzialmente complessi sostanzialmente utilizzando un'interfaccia fluent quello che ottengo è di andare a scrivere del codice che può sembrare quasi una frase in linguaggio naturale quindi se sfruttato opportunamente questo approccio permette di costruire quelli che sono una sorta di linguaggi specifici per il dominio o DSL quindi formano una specie di sintassi semplificata che ci consente di fare delle operazioni potenzialmente complesse pur mantenendo il codice abbastanza leggibile vi faccio vedere un esempio immaginiamo di dover andare a creare una classe che rappresenta un'unità di misura quindi un valore più l'unità di misura quindi vogliamo rappresentare ad esempio 10,4 watt i watt che cosa sono? chilogrammi metro quadro per secondi alla meno 3 quindi se voglio andare a rappresentare questo devo andare a dare il valore e poi devo andare a specificare quelle che sono unità di misura per cui una volta creato l'oggetto misura in questo modo devo andare a specificare che ho un'unità che sono i chilogrammi con esponente 1 un'altra unità che sono i metri con esponente 2 e un'altra unità che sono i secondi con esponente meno 3 in più magari mi interessa andare a rappresentare questa misura con un certo livello di precisione quindi vado a indicare che mi interessano due cifre decimali a questo punto ho fatto tutta una serie di chiamate che sono potenzialmente complesse qual è l'alternativa? l'alternativa è per l'appunto quello che abbiamo chiamato un'alternativa fluente ovvero andare a costruire lo stesso oggetto quindi lo stesso oggetto che contiene il valore le informazioni su quali sono le unità di misura in questo modo quindi measure.value 10.4 punto is chilogrammi by m squared by s 2 meno 3 with precision 2 done ora questa scrittura che ho inventato io così alla veloce è decisamente più semplice da leggere rispetto a questa per cui power uguale a new measure power radunit power radunit power radunit power set precision è più facile da leggere ed è anche più compatta ecco questo è un esempio di un'interfaccia fluent per andare a costruire un oggetto complesso come quello di una misura con le relative unità e il livello di precisione qual è la base? beh allora se andiamo a considerare la versione base non fluent la classe potrebbe essere descritta in questo modo quindi una classe measure con un attributo double privato e un'unità di misura oltre a una precisione l'unità può essere rappresentata ad esempio come una lista di oggetti unità uno legato all'altro che io posso andare ad aggiungere con questo metodo di unit che prende un nome e un esponente e quindi crea un nuovo oggetto unità passandogli il nome e l'esponente dicendo qual è l'unità precedente che era già stata memorizzata dentro la misura e vado a mettere il nuovo oggetto a farlo puntare dall'attributo unit set precision è molto semplice perché mi permette di andare a settare la precisione ovviamente questo mi permette la versione base se io voglio andare a costruire un oggetto è ovvio che devo fare delle operazioni diverse per cui quello che normalmente si fa è di andare a creare tramite la prima chiamata al primo metodo non un oggetto measure ma bensì un oggetto intermedio che ha tutti questi metodi quindi is by squared to with precision è un oggetto che normalmente viene chiamato un oggetto builder ovvero un oggetto che ha dei metodi che permettono di andare ad assemblare man mano con dei passaggi intermedi un oggetto decisamente più complicato che è quello della misura l'oggetto builder potrebbe essere dichiarato in questo modo quindi il metodo value della classe measure sostanzialmente riceve un valore e crea un nuovo oggetto builder passandogli v l'oggetto builder che cos'ha ha come attributo principale un ogget che è la measure quindi l'oggetto che andrà a costruire e poi ha le unità che lui mantiene da un'invocazione all'altra per cui quando creo l'oggetto builder questo crea anche l'oggetto measure e gli passa il valore dopodiché quando vado a chiamare is passo il nome di unità di misura e lui che cosa fa semplicemente memorizza l'unità di misura perché potrebbe ancora arrivare l'esponente quindi non può definire unità di misura subito ha bisogno di aspettare che arrivi un esponente oppure che arrivi un'altra unità di misura e restituisce this in modo che io possa fare la sequenza di chiamate concatenate dopodiché c'è quest'altro metodo by che sostanzialmente permette di andare a aggiungere un'altra unità di misura quindi in questo caso se chiamo il metodo by dopo aver chiamato is cosa succede se nel frattempo era già stata definita l'unità di misura e faccio un by significa che l'unità di misura precedente avrà come esponente 1 e quindi che cosa faccio faccio un object punto ad unit unit name 1 e vado a memorizzare la nuova unità di misura dentro l'attributo unit name se successivamente devo andare a definire un esponente lo farò tramite i metodi squared oppure to per cui se ho squared cosa faccio vado a dire object punto ad unit unit name 2 return this e quindi ho aggiunto una nuova unità di misura oppure se ho un esponente faccio object ad unit unit name exponent e poi metto unit name annull e restituisco this questo di nuovo mi permette di fare una sequenza di chiamate concatenate with precision chiama il metodo set precision dell'oggetto e restituisce di nuovo this l'ultima operazione che faccio che abbiamo visto nel caso precedente è quella di done quindi done che cosa fa semplicemente va a restituire l'oggetto che è stato creato con tutte le chiamate precedenti qual è il risultato di questa operazione è sostanzialmente che l'oggetto builder che io che abbiamo appena visto mi permette di andare a fornire una serie di metodi per andare a generare in maniera incrementale e utilizzando una notazione sostanzialmente fluente che costruisce delle frasi che sono simili al linguaggio naturale l'oggetto che altrimenti dovrei andare a costruire con tutta questa serie di chiamate attenzione l'utilizzo di un builder mi permette anche di fare una serie di operazioni per cui io potrei andare a controllare che che so venga sempre definito un esponente che comunque venga messa sempre la precisione per cui se non è messa la precisione lancio un messaggio d'errore cosa che invece con questa serie di metodi che vengono chiamati su measure io non posso fare quindi questo oltre a essere più compatto potenzialmente più leggibile mi permette anche di andare a definire una serie di controlli che mi permettono di garantire che l'oggetto complesso venga costruito in una maniera appropriata abbiamo visto abbiamo visto come possiamo andare a utilizzare i metodi statici per andare a fare delle operazioni relativamente complesse quindi abbiamo visto come possiamo andare a creare un singleton abbiamo visto come possiamo andare a utilizzare un metodo statico per creare un oggetto builder che mi permette di usare un'interfaccia di tipo fluente vediamo un caso in cui io posso andare a restituire un oggetto da un pool di oggetti già esistenti questo caso sostanzialmente è quello che troviamo nella classe string si tratta di un meccanismo che si chiama string pooling che cosa succede all'interno della classe stringa beh sostanzialmente la classe stringa mantiene al suo interno un pool di stringhe predefinite e offre un metodo che si chiama intern che sostanzialmente non è un factory method ma è un metodo che fa un'operazione analoga a quella di un factory ma soltanto su richiesta che cosa succede sostanzialmente il metodo inter verifica se data una stringa esiste già una stringa identica nel pool di stringhe predefinite se non esiste aggiunge questa stringa al pool e dopo aver fatto questo restituisce la stringa per cui se già esiste restituisce la stringa dal pool altrimenti la aggiunge e basta a cosa serve questo sostanzialmente serve quando io creo una stringa a evitare di mantenere in memoria tante copie di stringhe che hanno sostanzialmente lo stesso contenuto quindi quando io ho costruito una stringa posso chiamare il metodo intern che cosa fa verifica se la stringa c'è se c'è mi restituisce quella che già è nel pool predefinito e quindi posso buttare via quella che avevo costruito prima se non c'è mi restituisce di nuovo la stessa stringa quindi la nuova che ho creato ma lo aggiunge al pool quindi successivamente io mi ritrovo a poter tranquillamente quando ho una stringa identica sfruttare quella che è già presente nel pool quindi sostanzialmente intern è un meccanismo che mi permette di scartare eventuali doppioni di stringhe che io mi trovo a disposizione vediamo in un esempio come funziona intern quindi immaginiamo di avere questo codice di esempio quello che faccio è sostanzialmente avere due stringhe che vengono create a partire da un array di caratteri e poi le chiamate intern vediamo passo passo cosa succede allora ci troviamo inizialmente ad avere il nostro pool di stringhe predefinite che è inizialmente vuoto il primo passaggio che faccio è quello di andare a creare la stringa s1 a partire dai due caratteri h e i quindi creo la stringa e la metto nello hip il nostro pool di stringhe predefinite è ancora vuoto quel pool viene manipolato soltanto tramite il metodo intern quando creo una seconda stringa s2 che ha lo stesso contenuto questa di nuovo viene creata viene messa nello hip ma viene creata una stringa completamente separata a questo punto cosa faccio vado a prendere la versione internizzata di s1 quindi che cosa succede quando chiamo s1 punto intern vado innanzitutto a verificare se nel pool esiste una stringa che contiene quelle due lettere hi se non c'è la aggiungo se invece c'è ma non è il caso restituisco un riferimento a quella stringa quindi nel caso della nostra stringa s1 cosa succede aggiungo nel pool un riferimento alla stringa e vado a restituire il riferimento a quella stringa è la prima stringa messa nel pool che ha come contenuto h e i al secondo giro quindi quando cerco di andare a chiamare intern su s2 che incidentalmente ha lo stesso contenuto di s1 che cosa succede che intern scopre che esiste già una stringa nel pool che ha quel contenuto e quindi restituisce un riferimento alla stessa stringa quindi a questo punto cosa succede che io mi ritrovo i 1 e i 2 che pur partendo da due stringhe distinte con lo stesso valore puntano sostanzialmente a una sola stringa a questo punto io potrei buttare via i riferimenti s1 e s2 a questo punto l'oggetto puntato da s2 verrebbe buttato via e resterebbe soltanto l'oggetto puntato da s1 oltre che alle due versioni internizzate i 1 e i 2 questo meccanismo viene utilizzato dal compilatore tutte le volte che noi abbiamo una stringa inizializzata a partire da un letterale per cui quando mi ritrovo dentro il mio codice c'è una stringa s1 uguale hi cosa succede? il compilatore prende questi caratteri e genera sostanzialmente un array di caratteri perché questo è sostanzialmente questo letterale crea una nuova stringa a partire da questo array di caratteri che sono i caratteri che ci ritroviamo qua dopodiché chiama intern su questa nuova stringa che è stata creata a questo punto che cosa succede? succede che sostanzialmente la prima volta che io vado a creare una stringa che ha questo contenuto intern non trovando nessuna stringa con i due caratteri hi me lo metterà nel pool e mi restituirà sostanzialmente la stessa stringa le volte successive quando creo una stringa che ha quei contenuti intern me la troverà già presente e quindi mi restituirà non la stringa che ho appena creato ma bensì un'altra che è la prima che è stata messa nel pool il risultato qual è? il risultato è che sostanzialmente tutte le volte che uso lo stesso letterale alla fine verrà riportato esattamente allo stesso oggetto stringa per cui quando io ho tanti letterali uguali all'interno di un programma non soltanto il metodo equals funziona ma funziona anche l'uguale uguale solo che questo funziona soltanto se quelle variabili sono state inizializzate direttamente a partire da un letterale nel momento in cui faccio qualunque modifica gli oggetti vengono distinti e quindi l'uguale uguale e l'equals sono diversi quindi l'idea è che io posso comunque utilizzare intern per andare a ridurre il pool di oggetti che sono presenti in memoria rilasciare gli altri e sostanzialmente avere un'occupazione di memoria molto ridotta questo è molto utile in java perché come abbiamo visto utilizzando le stringhe ogni volta che io faccio un'operazione che potenzialmente potrebbe modificare la stringa in realtà non modifico la stringa ma vado a creare una versione modificata della stessa e tendenzialmente mi dimentico o perdo nello rip l'oggetto precedente per cui utilizzare questo meccanismo mi permette di andare a ridurre significativamente la memoria direi che con questo abbiamo esplorato la parola chiave final che sostanzialmente mi crea delle variabili che non possono più essere modificate e soprattutto la parola chiave static che mi permette di andare a definire attributi e metodi statici che hanno diversi usi abbiamo visto tre diversi usi abbiamo visto l'uso in cui andiamo a utilizzare una factory method che mi permette di andare a definire un singleton una factory method che mi permette di andare a utilizzare un builder e un altro tipo di metodo intern che sostanzialmente utilizza un pool statico di oggetti per andare a evitare duplicazione di valori e di dati in memoria iniziamo a parlare da quelle che sono le classi annidate allora in Java è possibile andare a dichiarare una classe normalmente all'interno di un file che ha esattamente lo stesso nome della classe con l'estensione .java ma oltre a questo è possibile andare a definire delle classi che sono annidate dentro altre classi ovvero dentro la coppia di graffe che definisce il corpo o la definizione della classe le classi annidate sono sostanzialmente equivalenti agli altri membri della classe ovvero metodi e attributi e quindi gli attributi ma soprattutto i metodi di queste classi annidate hanno le stesse visibilità dei metodi della classe stessa quindi sostanzialmente un metodo di una classe annidata ha visibilità su tutti i metodi e attributi della classe che la contiene quella più esterna in java ci sono diverse tipologie di classi annidate ci sono le classi annidate semplici cosiddette statiche perché hanno un modificatore static le classi interne che sono sostanzialmente analoghe alle precedenti però mantengono un collegamento all'oggetto della classe esterna che li ha creati abbiamo le classi locali che quindi sono definite non soltanto dentro una classe ma bensì dentro il corpo di un metodo e poi abbiamo le classi anonime che sono sostanzialmente delle classi locali ma che sono prive di nome vedremo in questo momento le prime tre tipologie mentre invece quest'ultima tipologia sostanzialmente la quest'ultima tipologia la lasceremo per dopo perché richiede l'utilizzo di un altro aspetto importante che è l'ereditarietà di cui parleremo prossimamente iniziamo da quelle che sono le classi statiche annidate quelle più semplici allora la dichiarazione è quella che vedete qua quindi io dentro una classe esterna vado a dichiarare una classe annidata con il modificatore static io qui non ho messo nessun modificatore di visibilità quindi non ho messo né private né public quindi vuol dire che questa classe annidata sostanzialmente ha una visibilità di package ovvero sarà visibile da tutte le altre classi che stanno nello stesso package di out che in questo caso è pkg quando devo fare riferimento a una classe annidata normalmente uso una notazione che è analoga a quella dei package in cui aggiungo il nome della classe esterna che contiene la classe annidata quindi il nome completo di questa classe nested è pkg che è il nome del package outer che è il nome della classe contenitore e in o nested nello caso specifico come possiamo utilizzare queste classi e perché le utilizziamo sostanzialmente il motivo principale per andare a utilizzare delle classi annidate di questo tipo ma anche degli altri è sostanzialmente ridurre quello che è l'inquinamento di nome se io definisco tutto allo stesso livello all'interno di un package tante classi mi ritrovo a che fare con tanti nomi poi è probabile che alcune di queste classi abbiano un uso molto limitato e ristretto ad esempio esclusivamente all'interno di un'altra classe in questo caso che cosa faccio andando a definire una classe annidata riduco quella che è lo spazio di nomi tutti gli insieme di nomi che io posso vedere e quindi sostanzialmente mi sembra inoltre quello che è una conseguenza è che posso andare in questo modo inquinando lo spazio di nomi globali a nascondere quelli che sono dettagli implementativi perché sostanzialmente la classe annidata sta all'interno della classe contenitore vediamo un esempio abbiamo una classe stack ovint che è uno stack di interi lo stack che cos'è è una struttura dati standard in cui sostanzialmente gli elementi vengono messi uno sopra l'altro quindi impilo gli oggetti o i dati che voglio andare a mettere e poi per accedere a questi oggetti posso sostanzialmente andare a lavorare dall'alto quindi l'ultimo elemento che ho inserito è il primo che vado a prendere quindi immaginate una pila di quello che volete metto tutti gli elementi per prendere un certo elemento cosa faccio? Devo togliere tutti quelli prima quindi l'accesso è sostanzialmente da quello che si chiama la cima dello stack o il top quindi questa classe stackovint rappresenta uno stack con due operazioni che sono push e pop push mette l'elemento sullo stack pop lo toglie ovviamente devo andare a gestire una serie di elementi come faccio? gli elementi che compongono il mio stack sono rappresentati da questa classe che si chiama element vedete che io l'ho dichiarata di tipo private quindi è visibile esclusivamente all'interno di questa classe stackovint quindi questo è un tipico dettaglio implementativo che nessuno all'esterno della classe stackovint vedrà questo vuole anche dire che io posso tranquillamente utilizzare il nome element in tanti altri contesti senza andare in conflitto con questo nome element che è definito qui dentro come è fatta questa classe sostanzialmente contiene un attributo valore e un altro attributo next che è sostanzialmente il prossimo elemento quindi quello successivo che è stato inserito precedentemente la classe sostanzialmente ha un attributo head che fa riferimento a un elemento che è il primo elemento del mio stack questo punta al primo elemento il primo elemento tramite il suo attributo next punterà a quello successivo e via di questo passo quindi io tramite head riesco ad accedere alla cima del mio stack e tramite l'attributo next dell'elemento che sta in cima posso accedere a quello successivo e via di questo passo quindi le operazioni di push e di pop possono essere svolte facilmente a questo punto data questa struttura generale un invito a chi segue questa lezione come esercizio provate a scrivere il contenuto di questa classe in particolare dei due metodi di push e pop in modo che facciano queste operazioni passiamo ora al secondo tipo di classe annidata sono quelle che vengono chiamate delle classi interne una classe interna sostanzialmente è una classe dichiarata esattamente come la classe annidata ma con la differenza che non c'è il modificatore static qui davanti questo che cosa vuol dire vuol dire che quando la classe outer crea un oggetto della classe inner automaticamente questo nuovo oggetto mantiene un link quindi un legame con l'oggetto esterno che l'ha creata questo vuol dire ovviamente che una classe interna di questo tipo può essere creata esclusivamente da un oggetto quindi da uno dei metodi della classe outer in modo che l'oggetto della classe interna possa avere il link al suo contenitore esterno vediamo ora un esempio di come possiamo andare a sfruttare questo tipo di classe iniziamo da questo che è un semplice contatore che ha un attributo interno v un metodo di incremento a cui passo la quantità di cui incrementare il valore e un metodo getter che sostanzialmente mi restituisce il valore immaginiamo di voler sostituire questo semplice metodo con degli oggetti che nascondono al loro interno il passo di cui incrementare quella variabile e poi sfruttare questi oggetti per andare a fare gli incrementi quindi quel metodo verrebbe sostituito da una classe interna esattamente fatta in questo modo per cui in questa classe che vedete non ha static quindi è interna abbiamo un attributo interno by che è per l'appunto il passo di cui incrementare un metodo do increment che è quello che sostanzialmente incrementa la variabile v e un costruttore a cui passo l'incremento da inizializzare a questo punto qui ho definito anche un metodo che si chiama build incrementer che dato un parametro costruisce un oggetto di tipo incrementatore con un certo passo a questo punto che cosa faccio sfrutto il fatto che questa classe mantenga quando viene costruita un riferimento all'oggetto che l'ha creata per cui posso andare a utilizzare il contatore e gli incrementatori ad esempio in questo modo creo un contatore creo due incrementatori con passo 1 e passo 4 e poi vado a chiamare i singoli incrementatori usando il metodo do increment il primo incrementerà di 1 l'altro incrementerà di 4 quindi sostanzialmente mi ritroverò con un incremento totale di 5 come funziona il meccanismo della classe interna beh sostanzialmente possiamo immaginare che il compilatore la traduca in questo modo quindi sostanzialmente vada ad aggiungere un attributo interno outer che punta all'oggetto della classe contenitore questo attributo viene sostanzialmente inizializzato quando viene creato l'oggetto quindi è come se fosse passato come è scritto qua come un parametro del costruttore e oltre a inizializzare gli attributi interni inizializza questo riferimento a questo punto poi ha la possibilità di utilizzare outer per accedere agli attributi dell'oggetto più esterno a questo punto quando noi andiamo a creare i due oggetti incrementatori dentro questo metodo build increment questi manterranno un legame con l'oggetto contenitore che li ha creati quindi è molto comodo quando io ho degli oggetti che sono strettamente legati al loro contenitore quindi sono come fossero contenuti che questi mantengano un riferimento al loro contenitore in modo da poter operare in maniera privilegiata con gli oggetti di questa classe terza tipologia di classi interne sono quelle che sono dichiarate all'interno di un metodo quindi io in Java posso andare a dichiarare una classe x direttamente dentro un metodo per cui ad esempio qui devo definire una classe x che è un metodo plus che restituisce j più i vi faccio notare che il motivo per cui io definisco una classe all'interno di un metodo è che posso andare a fare riferimento a variabili locali di questo metodo per cui posso creare un oggetto x di classe x e poi chiamare x.plus questo che cosa fa? sostanzialmente mi restituisce il valore di j incrementato di 1 come funziona questo meccanismo? funziona sostanzialmente con una specie di sostituzione quindi il valore di j nel momento in cui dichiaro la classe x è in questo caso 1 e quindi sostanzialmente nella classe che viene creata a j viene sostituito 1 a questo punto quando creo la mia classe il mio oggetto x questo andrà a sommare 1 che è il valore di j quando è stata dichiarata la classe a 1 in generale tutto l'insieme di variabili locali che sono utilizzate dalle classi interne vengono chiamate sostanzialmente closure quindi la closure è l'insieme di tutte le variabili locali che sono utilizzate o referenziate da una classe interna locale questa classe oltre a essere una classe locale quindi dichiarata dentro un un metodo è una classe interna e quindi mantiene esattamente come le classi interne che abbiamo appena visto un riferimento preferenziale all'oggetto che l'ha creata ovviamente l'oggetto che l'ha creata è l'oggetto su cui è stato chiamato questo metodo N ora questo meccanismo di sostituzione per cui cambio il valore con il valore attuale della variabile locale potrebbe essere messo in crisi se noi dopo aver dichiarato la classe andassimo ad esempio a incrementare la variabile J a questo punto qui che cosa ci aspettiamo ci aspettiamo il valore di J che venga utilizzato il valore di J quando ho dichiarato la classe quindi sostanzialmente 1 oppure il valore di J dopo che io ho fatto l'incremento sostanzialmente qui c'è un po' di ambiguità per cui Java sostanzialmente impedisce di fare queste operazioni quindi sostanzialmente questa operazione non può essere fatta perché tutte le variabili che fanno parte della closure devono essere sostanzialmente final se io non dichiaro final esplicitamente in questo modo quindi non dico che quella variabile comunque non può cambiare valore in ogni caso il compilatore la considera come final e quindi se cerco di accedere a una variabile modificandola il compilatore sostanzialmente mi segnala un errore l'ultimo tipo di classi che avevo menzionato prima è sostanzialmente quello delle variabili interne anonime che sono sostanzialmente le variabili interne locali che però non hanno un nome come faccio a non dare un nome come una classe beh questo è un po' complicato e richiede l'uso dell'ereditarietà quindi dopo che avremmo parlato e introdotto il tema dell'ereditarietà vedremo anche nel dettaglio come funzionano le classi interne a non a questo punto vorrei invece passare a uno degli altri argomenti aggiuntivi che riguarda la gestione della memoria sostanzialmente in Java io ho tre tipologie di memoria la memoria statica in cui vengono messi tutti gli elementi statici dichiarati dalle classi quindi le variabili statiche ad esempio ma anche le definizioni delle classi quindi esiste una memoria in cui il codice delle classi viene messo e questa è una memoria statica c'è poi una memoria dinamica che è quella in cui vengono creati gli oggetti quando io faccio un'operazione di new vado a utilizzare quella memoria e infine c'è lo stack in cui vengono memorizzate le variabili locali dei metodi ogni volta che vado a allocare una nuova variabile locale sostanzialmente aggiungo in cima allo stack un blocchetto di memoria che è in grado di mantenere tutte le variabili locali di quel metodo quando il metodo finisce sostanzialmente viene fatto un pop di quella area di memoria e sostanzialmente mi ritrovo in cima alla memoria le variabili locali della funzione del metodo chiamante quindi in generale io posso andare a distinguere la mia memoria in statica locale o memoria dello stack e dinamica o heap si chiama heap perché sfrutta una strategia che si chiama per la punto heap per la sua gestione ma questo è giusto un flash per chi sa che cos'è un heap e quindi chi ha visto l' heap in un corso ad esempio di algoritmi e programmazione in generale immaginiamo che questa sia una gestione che fa in modo di mettere dei blocchetti di memoria allocare ed eventualmente liberarli quando non sono più necessari quindi cosa succede immaginiamo di avere un programma molto semplice in cui ho una variabile statica ss e un main la variabile statica ss ovviamente andrà a finire dentro la memoria statica dichiarata così sostanzialmente viene inizializzata automaticamente quindi sostanzialmente è uguale inizialmente a null se entro dentro il mio metodo main e ho ad esempio una variabile locale s questa verrà messa dentro lo stack quando vado a creare un nuovo oggetto e lo faccio puntare dal riferimento s sostanzialmente quello che ottengo è di andare a creare la mia variabile scusate il mio oggetto di tipo stringa dentro lo heap e andare a memorizzare dentro s che sta nello stack un riferimento all'oggetto che ho appena creato se poi faccio ad esempio ss uguale a s quello che ottengo è quello di andare a memorizzare dentro ss una copia del riferimento che c'è in s e quindi sostanzialmente ottengo due variabili una che sta nello stack quindi nella variabile locale nella memoria locale una che sta nella parte statica di memoria che puntano agli oggetti quindi in generale in java nella memoria statica e nello stack ho semplicemente riferimenti oppure variabili di tipo primitivo tipo int dallo double per cui in generale quando ho le variabili io ho variabili di distanza e quindi sono dei riferimenti che sono memorizzati all'interno degli oggetti e quindi stanno dentro lo heap ho le variabili locali e ho le variabili statiche quindi questi sono i tre tipi di memoria che io ho a disposizione come viene gestita la memoria sostanzialmente abbiamo visto che possiamo fare una new ma non abbiamo un modo esplicito di andare a deallocare la nostra memoria per cui lo facciamo in maniera implicita utilizzando quel modulo della java virtual machine che si chiama garbage collector e che sostanzialmente periodicamente va a identificare gli oggetti morti ovvero a cui non è possibile accedere perché non c'è più nessun riferimento e li rilascia noi possiamo andare a suggerire al nostro modulo di garbage collection di effettuare una passata di pulizia della memoria usando il metodo gc dell'oggetto system però attenzione che questo nelle specifiche della java della virtual machine è interpretato come un semplice suggerimento quindi non è garantito che la chiamata di gc effettivamente vada a liberare la memoria cosa succede se io devo andare a fare qualche operazione in fase di distruzione di un oggetto allora non lo posso fare esplicitamente perché giustamente non posso controllare il momento in cui non viene deallocato un oggetto ma se ho necessità di fare qualche operazione prima che la memoria di un oggetto venga rilasciata lo posso fare tramite il metodo finalize attenzione non esiste nessuna garanzia in java che il metodo finalize venga chiamato del tutto per cui ad esempio se abbiamo un oggetto una classe item che ha un metodo finalize che stampa finalizing e io vado a creare un nuovo oggetto di questo tipo e poi lo metto a null posso provare a chiamare il metodo garbage collect ma non è detto che questo effettivamente vada a recuperare la memoria che era stata dedicata all'oggetto i e che quindi chiami finalize quello che invece è molto probabile è che se io non metto questa chiamata gc il programma terminando non faccia nessuna operazione di liberazione della memoria quindi il metodo finalize dell'oggetto item non verrà mai chiamato invece con questo gc è probabile che venga chiamato ma non è garantito a questo punto ancora un paio di dettagli sulla sintassi java che riguardano gli argomenti il numero di argomenti variabili questa è una caratteristica che era già presente in c vediamo com'è declinata in particolare nel linguaggio java quindi in generale io quando ho un metodo posso passare un numero variabile di parametri questo viene fatto andando a specificare il tipo del parametro mettendo poi puntini puntini e i parametri quindi sostanzialmente che cosa succede succede che quando io ho una dichiarazione di questo tipo il compilatore in pratica sostituisce a questa dichiarazione una dichiarazione di array quindi invece di avere un array di tanti parametri di un certo tipo il compilatore quando io faccio la chiamata mi costruisce un array di elementi di questo tipo per cui ad esempio se io vado a definire una funzione che si chiama un metodo statico che si chiama min e riceve un numero variabile di parametri di tipo int che io chiamo values se io voglio utilizzare questo metodo per andare a calcolare il valore minimo come suggerisce anche il nome quello che posso fare è di andare a utilizzare un ciclo for su values perché all'interno di questo metodo values è sostanzialmente rimpiazzato da un array ovviamente numero variabile di parametri vuol dire che io posso passare anche nessun parametro in questo caso l'array è un array di dimensione 0 con lunghezza 0 e quindi sostanzialmente questo ciclo non verrà mai eseguito altrimenti posso passare 1, 2 n parametri e questi parametri saranno sostanzialmente messi dentro gli elementi di un array di tipo int quindi questa dichiarazione in java sostanzialmente viene rimpiazzata da un array e quindi se io chiamo min passandogli questi parametri automaticamente il compilatore crea un array che contiene 9, 3, 5, 7, 2, 8 lo passa a min che poi a questo punto farà un ciclo su questi elementi e andrà a individuare qual è il minimo altro elemento che esiste già nella sintassi C ma che è trattato in maniera leggermente diversa in java sono i tipi enumerativi per cui io posso utilizzare enum per andare a definire un tipo enumerativo enum sostanzialmente segue una sintassi molto simile alla dichiarazione di una classe vedete che io qui avrei voluto scrivere class e la sintassi era molto simile la differenza è che dentro un enum io vado a elencare tutti i valori possibili di questo tipo enumerativo qual è il vantaggio di un tipo enumerativo è che sostanzialmente ho un controllo molto più specifico da parte del compilatore che è in grado di andare a verificare che variabili di tipo enumerativo ad esempio su it possano assumere soltanto questi quattro valori inoltre quando stampo il valore questo quando stampo il valore di una variabile di tipo enumerativo ho esattamente questa stringa sostanzialmente i tipi enumerativi equivalgono grossomodo a una classe in cui ho una serie di elementi statici hearts diamonds clubs and spades che vengono inizializzati con nuovi oggetti di questa classe tutti gli oggetti avranno una stringa che è la rappresentazione di quel valore e un valore intero che rappresenta quello quindi i tipi enumerativi esattamente come in C hanno un corrispondente valore intero che io ovviamente posso utilizzare ma hanno anche una stringa che è la loro rappresentazione per fare riferimento agli elementi di tipo enumerativo devo utilizzare il nome dell'enumerazione punto il nome di uno di questi valori quindi questo è l'unico modo in cui posso andare ad assegnare un valore di tipo enumerativo quindi quando dichiaro la variabile card questo potrà assumere soltanto uno di questi quattro valori che sono quelli elencati qua dentro direi che con questo abbiamo concluso la serie di lezioni che andavano a definire le caratteristiche di base del linguaggio Java tanto per riassumere Java abbiamo visto che ha una sintassi molto simile a quella del C anche queste ultime due caratteristiche il numero variabile di parametri e i tipi numerativi sono analoghi a quanto c'è in C con qualche piccola variante c'è un nuovo tipo primitivo che è il tipo Boolean per cui tutte le istruzioni di controllo sfruttano questo tipo gli oggetti quindi sono le istanze delle classi vengono manipolati tramite dei riferimenti quindi l'unico modo di accedere a un oggetto è tramite un suo riferimento che è un puntatore però nascosto e gestito in maniera molto più limitata rispetto a quanto sono i puntatori in C ricordatevi in generale che quando io definisco una variabile cui tipo è il nome di una classe quello è una dichiarazione di riferimento ma non corrisponde in generale alla creazione di un oggetto un oggetto deve essere creato separatamente utilizzando l'operatore new le classi e anche i package permettono di andare a definire dei contesti di visibilità e io ho una serie di modificatori private e public che permettono di andare a regolare quali elementi all'interno di una classe o all'interno di un package sono visibili al loro esterno questo mi permette sostanzialmente di avere una pulizia nell'architettura della mia applicazione che permette di avere una facile comprensione del mio codice e mi espone gli utenti di un package oppure di una classe a un insieme molto limitato di nomi e quindi semplifica la comprensione dei package e delle classi abbiamo visto anche gli array gli array a differenza di quanto avviene in java sono degli oggetti e quindi vengono sempre allocati nella memoria dinamica la loro dimensione viene definita nel momento in cui faccio un'operazione di new ricordiamoci che gli oggetti di un tipo che è una classe sostanzialmente sono array che contengono tanti riferimenti quindi la dichiarazione di un array ad esempio di stringhe non crea delle stringhe ma crea semplicemente dei riferimenti a oggetti tipo string e quegli oggetti non ci sono quindi un array normalmente è ben inizializzato con tutti i valori a null abbiamo visto poi che esistono le classi wrapper che permettono di andare a incapsulare i tipi primitivi e abbiamo visto che c'è una classe speciale che si chiama string che rappresenta le stringhe quindi gli array di caratteri in java non sono utilizzati per andare a rappresentare le stringhe ma le stringhe sono rappresentate da questa classe speciale che abbiamo visto ad esempio l'operatore più una serie di metodi che permettono di fare delle operazioni e condivide con le classi wrapper una caratteristica importante che è immutabile quindi una volta che io ho messo dentro una stringa o un valore quello non cambia più se io voglio fare un'operazione di modifica devo andare a creare una nuova classe che contiene una variante della stringa di partenza quindi io quando opero sulle stringhe e faccio operazioni complicate queste sostanzialmente creano sempre le nuove stringhe cosa succede a quelle vecchie vengono lasciate nello heap e prima o poi il garbage collector andrà a liberare la loro memoria quindi questa era una sintesi estremamente veloce di quelle che sono le caratteristiche principali del linguaggio Java a questo punto non ci resta che andare a vedere quelle che sono poi le caratteristiche un po' più avanzate quindi la prossima caratteristica del linguaggio Java che noi andremo a analizzare è quella che si chiama l'ereditarietà o inheritance che è una caratteristica molto potente che è comune a praticamente tutti i linguaggi orientati agli oggetti e che ci permette di dare un potere espressivo molto significativo grazie a tutti